Buongiorno a tutti, oggi sui social di Rottergast Italia è stato pubblicato l'articolo di Roberto Bonfanti a proposito dell'intervista ai Nylon che hanno vinto a Rottergast Italia con l'altra band milanese, Lo Stato delle Cose. Per leggere l'articolo basta cliccare sui link che trovate sotto questo video e potete leggere tutto ciò che raccontano i Nylon nella loro spensionata di intervista. I Nylon è un gruppo interessante che ha vinto a Rottergast Italia, prossimamente saranno anche nella compilation di Rottergast Italia e per quanto riguarda chi ama la buona musica, che ama la musica di qualità, che ama soprattutto ed è curioso seguire gli artisti emergenti, qui trova pane per i suoi denti.